Oggi vi faccio vedere la preparazione della faraona alle prugne. Gli ingredienti sono per quattro persone. Faraona, dell'alloro, del rosmarino tritato, le prugne, il vino bianco e poi aggiungeremo del brodo. Allora iniziamo, si mette la faraona nella casseruola, la cospargo di olio, rosmarino e l'alloro. Inforniamo la faraona. Il forno deve essere abbastanza alto, la lasceremo lì circa 15 minuti. Il forno deve essere abbastanza alto, la lasceremo lì circa 15 minuti. Ecco qua papà, la nostra faraona alle prugne. Un pezzo di faraona servita con la sua prugna, accompagnata da un tortino di zucca e patate. Non ci sono segreti, non ci sono varie variazioni. Non ci sono cose, escluso il vino, il suco delle prugne, le prugne. Stop. La faraona viene cotta così. La faraona viene cotta così. La faraona viene cotta così.